Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. In primo piano l'emergenza sanitaria con il nuovo decreto del governo che prevede misure più restrittive, in particolare l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto, prorogato intanto fino al 31 gennaio lo stato di emergenza. Ancora Covid, in Italia i casi aumentano sempre più fino a raggiungere i 2.677 contagiati nella giornata di ieri. Facciamo il punto della situazione anche in provincia di Napoli. Aumentano i casi sia a Torre del Greco che a Dercolano, a Portici, 57 positivi in una casa di riposo tra dipendenti ed ospiti. Spazio anche alla cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza a Napoli. Sequestrate 50 piante di marijuana. Tre persone sono state denunciate. Prosegue il viaggio di TV City nelle scuole del territorio. Questa mattina tappa all'Istituto Colombo di Torre del Greco. Dopo l'accoglienza si procede con un piano di presenze a giorni alterni unitamente alla didattica digitale integrata. Infine lo sport con la Turris. Questa sera alle 18.30 a Liguori il match con la Viterbese. Mister Fabiano sembra orientato a schierare la stessa formazione che domenica ha portato a casa i tre punti. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Cresce la paura per il covid-19. In Italia i casi aumentano sempre di più fino a raggiungere i 2.677 contagiati solo nella giornata di ieri. Un incremento vertiginoso che non può lasciare il governo a braccia concerte. Pronto quindi un nuovo decreto covid che vedrà ulteriori misure anticontagio e un nuovo DPCM della durata di un mese che definirà nello specifico gli interventi. La bozza del decreto legge nell'allungare l'orizzonte temporale delle norme al 31 gennaio 2021, alla luce della proroga dello stato di emergenza, tratteggia già alcune delle novità. La principale è l'obbligo di mascherine all'aperto. Per chi viola le disposizioni restano multe salate. Una stretta decisa da parte del governo per contrastare la seconda ondata di contagi. Vengono fatti salvi i protocolli anticontagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Il divieto non riguarda i bambini sotto i 6 anni, chi fa sport e le persone con patologie e disabilità non compatibili con l'uso della mascherina. Con la proroga dello stato di emergenza resta anche l'incentivo allo smart working per tutti i lavori che possano applicarlo. Resta l'obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro, di ristoranti e locali. Per cinema, teatri e concerti resta il limite di 200 persone per gli spettacoli a chiuso e 1000 persone per quelli all'aperto. Multe salate per chi non rispetterà queste regole, che vanno dai 400 ai 1000 euro. Per quanto riguarda le regioni, in base al nuovo decreto potranno utilizzare solo misure più restrittive di quelle disposte dal governo. Infine, tamponi obbligatori per chi arriva da Gran Bretagna, Olanda e Belgio. Ad oggi il test è già previsto per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta, Spagna e Francia. Schizzano i contagi in Campania. Nella giornata di ieri sono stati registrati 395 casi su 5064 tamponi. Numeri preoccupanti che pongono la campagna al primo posto tra le regioni più colpite dall'epidemia. I sindaci della provincia di Napoli si sono attivati per garantire sicurezza nonostante il bilancio negativo. Attore del Greco, il Centro Operativo Comunale, dopo il consueto aggiornamento serale con i responsabili sanitari dell'Ast Napoli 3 Sud e con l'unità di crisi regionale, ha accertato la positività, da Covid-19, di altri tre cittadini, due dei quali in isolamento domiciliare, uno in regime ospitaliero. Cresce la paura anche nel comune di Ercolano, dove si contano 36 casi positivi. Il sindaco Buonaiuto si dice preoccupato per l'aumento dei contagi, anche perché nessuno può conoscere gli sviluppi del virus durante l'autunno. Sto facendo salti mortali, afferma il primo cittadino, per garantire la sicurezza di tutti. L'unico strumento che abbiamo a disposizione per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari e comportarsi con rigore e responsabilità. Intanto ad Ercolano è stata creata un'area chiamata Drive-Thru, in cui i cittadini potranno essere sottoposti al tampone senza scendere dall'auto, al fine di ridurre i tempi. Focolaio in una casa di riposo per anziani nel comune di Portici. Risultati positivi, 41 ospiti e 16 dipendenti. Il sindaco Vincenzo Cuomo scrive sulla sua pagina Facebook. Uno degli ospiti è stato ricoverato in ospedale a Bosco Tre Case, con sintomi non gravi, mentre gli altri sono stati posti in isolamento all'interno della casa di riposo, sotto la sorveglianza sanitaria dell'AS Napoli 3 Sud. Nella giornata di ieri, altri 5 cittadini di Castellammare di Stabbia sono risultati positivi al Covid-19. Tra questi anche due bambini, di 2 e 7 anni, e la loro madre, 41enne, a cui si aggiungono due coniugi di 79 e 75 anni. Infine il sindaco Cimmino augura, attraverso un messaggio sui social, una pronta guarigione a tutti i cittadini colpiti dal virus. Restiamo uniti e rimaniamo insieme per vincere questa sfida. Insieme ce la faremo. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato a pianura 50 piante di marijuana, del peso di circa 500 grammi ciascuna, per un peso complessivo di 25 kg e denunciati tre soggetti, tutti napoletani. L'operazione è stata condotta dalla fiamme gialle del secondo nucleo operativo metropolitano, i quali, grazie ai rilevamenti della sezione aerea di Napoli e a seguito di una prolungata attività di appostamento e osservazione, hanno potuto scoprire la piantagione nascosta da una folta vegetazione, denunciati tra i responsabili per coltivazione di sostanze stupefacenti. Le piante, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono state sottoposte a sequestro e distrutte in loco dagli stessi finanzieri. Un altro importante risultato nella lotta alla droga, che rientra nel piano di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti attuati in stretta sinergia tra il comando provinciale e reparto operativo aereo-navale della Guardia di Finanza di Napoli. Dopo la ripartenza dell'anno scolastico, gli istituti torrisi stanno mettendo in pratica tutte le misure di prevenzione per una didattica sicura. Questa mattina, con le telecamere di TV City, siamo stati all'Istituto Colombo per ascoltare la dirigente scolastica Lucia Cimmino. Ingressi scaglionati e didattica digitale integrata, per evitare assembramenti e rischio di contagio da Covid-19. L'emozione è stata tanta, ma soprattutto è stata un'emozione da parte dei ragazzi. Rivederli dopo questo lungo periodo è stato veramente un momento particolare, sia per loro che per noi. Però noi abbiamo previsto un piano di presenza, proprio perché anche se non abbiamo ancora le aule a disposizione e non abbiamo la possibilità di averli in futuro tutti in presenza, in questa fase di accoglienza abbiamo deciso di creare un piano di presenza per far sì che i nostri ragazzi, al giorno alterni, siano tutti presenti a scuola. Perché volevamo di nuovo ripristinare quel momento di normalità, ma soprattutto ripristinare il rapporto con i loro docenti e con la scuola. Perché io penso che il distanziamento fisico che ci deve essere per il diritto alla salute, però non deve diventare anche un distanziamento sociale. E per questo abbiamo cercato di riportarli tutti a scuola, creando anche dei momenti particolari. Abbiamo dato loro delle indicazioni sulla sicurezza, come si dovevano comportare, abbiamo detto come dovevano stare nei banchi affinché non venissero spostati per il distanziamento appunto previsto dalla legge. E poi abbiamo dato loro delle borracce che ci sono state donate dalla Banca di Credito Popolare per far sì che loro avessero meno momenti per transitare nella scuola. E queste sono state le prime fasi dell'accoglienza. Successivamente adesso stiamo cercando di ricreare una normalità didattica attraverso un'attività che sarà svolta in parte in classe in presenza e in piccola parte agli alunni saranno in DAD. Che anno scolastico sarà secondo lei? Sarà un anno particolare, ma soprattutto sarà un anno dove io ho detto ai docenti che bisogna avere flessibilità e elasticità. Dobbiamo adeguarci alle situazioni, ma soprattutto prendere le decisioni a secondo delle cose che si verificheranno. Noi siamo decisi nel far sì che i nostri ragazzi vengono a scuola tutti i giorni in presenza evitando per esempio per le prime e le classi quinte la didattica a distanza. Per le prime perché riteniamo che sia opportuno che il ragazzo frequenti tutti i giorni e si affizioni soprattutto alla scuola, ma soprattutto inizi un suo percorso che è quello della scuola superiore, in particolare nel nostro istituto che prevedono molte attività laboratoriali, noi abbiamo bisogno della presenza degli alunni come pure per il quinto anno perché dovranno affrontare l'esame di Stato. Per le altre classi intermedie abbiamo previsto un piano di presenza e con piccoli gruppi in DAD. La situazione del mio istituto tutti la sapete. In questo momento però il doppio ingresso, il doppio istituto, perché avendo due sedi io ho potuto creare sia un'alternanza nelle entrate e nell'uscita e sia la possibilità di dividere i gruppi. Quindi da noi è difficile creare l'assembleamento. Infine la preside riserva un plauso ai suoi alunni per i comportamenti irresponsabili dopo i primi giorni di scuola. Io sinceramente sono rimasta sorpresa dai miei ragazzi perché devo dire la verità, io sono contenta per come si stanno comportando perché veramente loro hanno compreso il momento, hanno capito che devono mantenere il distanziamento, devono frequentemente lavarsi le mani, devono portare la mascherina e devo dire la verità sono sorpresa perché ero un po' preoccupata in quanto la mia platea è tutta maschile ma si stanno comportando da veri soldatini sinceramente ma diciamo da futuri allievi ufficiali. Secondo impegno consecutivo al Liguri in campionato per la Turris che dopo l'esodio vincente contro la Virtus Franca Villa ospita questa sera nel turno infrasettimanale la Viterbese reduce dalla sconfitta interna contro l'Avellino e ancora secco di gol nelle due partite già disputate. Mister Fabiano pare orientato a schierare la stessa formazione che ha disputato il primo incontro e che ha portato a casa i primi tre punti viste anche le assenze di uomini importanti come Longo, Alma e D'Alessandro. I Coralini hanno così l'occasione di tenere il passo delle prime che hanno una gara in più per dare sempre più fiducia a un collettivo che si è calato bene sin da subito nella realtà di un campionato molto difficile e competitivo. In settimana inoltre è arrivata la definitiva esclusione del Trapani da parte della Lega. I siciliani, dopo aver rinunciato a scendere in campo nei primi due turni sono stati definitivamente cancellati dal torneo e relegati all'ultimo posto in classifica annullando di fatto l'incubo della retrocessione diretta per tutte le altre compagini. Per la Turris matricola del campionato, come per tutte le altre, nel peggiore dei casi ci sarà da disputare i play-out. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Vi ricordo che per informazioni e segnalazione potete scrivere alla mail a redazione chiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Appuntamento a domani per una nuova edizione aggiornata del nostro Tg. Appuntamento a domani per una nuova edizione aggiornata del nostro Tg.